Possiamo dire che era già tutto previsto, nel senso che l'ordinanza del Consiglio Nazionale Forense e la rimessione, la Corte Costituzionale, della questione relativa alla conformità della norma interpretativa della Cassazione rispetto ai principi della Cassazione non stupisce affatto. Infatti tutti noi sappiamo che all'indomani della sentenza della Corte di Cassazione l'avvocatura istituzionale più conservatrice aveva cercato di porre in essere una strategia che tendesse a vanificare la portata del principio. La cosa che stupisce di più è la seguente, nel senso che l'avvocatura istituzionale che all'indomani della pronuncia della Corte di Cassazione ha voluto, preteso e ottenuto una norma che interpretasse la portata del principio della Cassazione oggi ne chiede addirittura l'abrogazione attraverso la rimessione alla Corte Costituzionale. Possiamo dire oggi, che doveva essere il giorno dell'orgoglio dell'avvocatura, che in realtà è assolutamente una farsa. Una farsa fu l'acclamazione della mozione dell'avvocato in Costituzione a Catania, una farsa può essere anche l'ordinanza del Consiglio nazionale forense. Sbigottisce soprattutto anche la circostanza che con l'ordinanza di rimessione si vuole mettere in discussione l'intero assetto del doppio mandato, non si vuole soltanto vanificare il principio della Cassazione. E questo dimostra ancora l'autoreferenzialità dell'avvocatura istituzionale più restia al cambiamento, più restia ad accettare i principi di democrazia, di rispetto delle minoranze, di parità di genere. E questo sicuramente contraddice poi con la volontà di pretendere e chiedere alla politica legislatore l'affermazione dell'avvocato in Costituzione. L'effetto è devastante perché adesso con la rimessione alla Corte Costituzionale tutti coloro che potevano ritenersi incandidabili o inelegibili si candideranno, vanificando l'effetto e la portata tanto del principio della Cassazione quanto della norma introdotta con la legge di conversione del decreto di esamplificazioni e quindi di fatto impedendo il ricambio. Però io voglio anche salutare tutte quelle realtà in cui non c'è stato bisogno di ricorrere al principio del doppio mandato, in quanto in molti ordini questo principio è stato naturalmente rispettato, vi è stato un ricambio dovuto anche al fatto che la legge professionale ha previsto la parità di genere. Spiace dover pensare che proprio le istituzioni nazionali forenzi con l'assenso o meglio con il silenzio dell'organismo congressuale forense abbiano veramente eretto un muro contro il cambiamento. Non stupisce, anzi stupisce al contrario il fatto che più di una volta abbiamo detto che in molte realtà ci sono presidenti e consiglieri che siedono in consiglio appunto da 10, 12, 14 anni e dobbiamo dire che è l'ennesima prova di un messaggio non positivo, innanzitutto ho lanciato l'avvocatura e non capisco come ci si possa avvicinare ad una sessione straordinaria, ad un'interiore sessione del congresso, muovendo da un principio assolutamente contrario alle regole fondamentali della democrazia nell'ambito della politica forense. E infine voglio sottolineare come nell'ordinanza del Consiglio nazionale forense si sottolinei quasi il fastidio dell'ingerenza statale nell'ordinamento forense come se l'ordinamento forense fosse una repubblica a sé stante non soggetta ad alcuna regola ma soggetta soltanto al volere e allo strapotere di alcuni soggetti e alcuni colleghi che siedono nelle istituzioni. Ripeto, non è un bel messaggio, dovremo attendere la pronuncia della Corte Costituzionale ma nel frattempo passeranno degli anni, si tornerà nuovamente dinanzi alle sezioni uniti della Cassazione e così chi voleva ottenere il risultato di sedersi e far passare il tempo l'ha ottenuto. È una brutta pagina che proprio stride con la giornata dell'orgoglio dell'avvocatura che fortunatamente oggi è stata annullata.